Con la crescente diffusione di internet e dei social network aumentano gli attacchi informatici e ci colpite le reti di ct delle aziende ma anche tablet smartphone dei privati sempre più spesso strumenti di lavoro ma anche di guardamento Un microchip sotto la pelle per dire addio a password, badge e chiavi Si chiama BioHackle ed è un tentativo di semplificare la nostra vita ed aumentare la sicurezza Chi lo sta sperimentando può sbloccare il telefonino, aprire una porta o trasferire dati solo avvicinando la mano ad un dispositivo dotato di tecnologia MFC a radiofrequenza Un bel sollievo per chi ha paura di dimenticare pin e tessere o mazzi di chiave certo ma una protezione serve perché i criminali informatici possono rubarci dati anche solo avvicinando il loro smartphone al nostro quando siamo distratti L'anno scorso software ed app dannosi hanno colpito 16 milioni di cellulari nel mondo più 83% sull'anno prima vista anche in genere la mancanza di difese A rischio pirateria online sono poi le nuove auto connesse al web, le console, le smart tv, gli elettrodomestici intelligenti parte della cosiddetta internet delle cose Ma i danni maggiori dei cybercriminali sono alle piccole e medie aziende che spesso non hanno un responsabile della sicurezza online Nel 2014 il 40% ha dichiarato di aver subito attacchi con danni per 9 miliardi Nel mirino soprattutto banche, siti di commercio elettronico, media, intrattenimento, sanità e istituzioni pubbliche L'entità dei danni è così rilevante che oramai quasi tutte le assicurazioni si stanno interessando al problema pubblicando polizze specifiche per gli attacchi informatici perché il problema è grave e va gestito L'entità dei danni è così rilevante che oramai quasi tutte le assicurazioni si stanno interessando al problema L'entità dei danni è così rilevante che oramai quasi tutte le assicurazioni si stanno interessando al problema